Si sta mettendo al bello il tempo ma nelle ore scorse e nella notte ha creato moltissimi disagi. Sono stati oltre 150 gli interventi dei vigili del fuoco nella notte scorsa a causa del violentissimo nubifragio che ha interessato tutto il Trentino. I vigili del fuoco hanno lavorato a partire già dalle 20 e 30 di ieri per portare ai cittadini che chiamavano incessantemente il centralino. Particolarmente colpita la zona di Lavis dove ha collassato il collettore delle acque bianche. Le immagini che vedete sono state girate stamani e si riferiscono alla cantina ancora lagata della pastigeria Bronzetti e così si lavora per sgomberare gli spazi sperando che con quest'oggi il tempo abbia finito di versare centinaia di litri per metro quadrato. Quello della pastigeria Bronzetti è solo uno dei centinaia di casi che come detto si sono registrati in provincia. E ma il tempo non ha risparmiato neppure la nostra sede in via Unterweger dove ieri sera la pioggia incessante ha provocato un allagamento che poteva portare a guai molto seri. Fino a tardanotte i vigili del fuoco permanenti di Trento hanno lavorato alla cremente per mettere in sicurezza la rete elettrica le apparecchiature. Grazie alla loro perizia non si è registrato nessun danno e le trasmissioni come vedete sono in onda regolarmente.